ed eccoci benvenuti di nuovo in diretta per questo nuovo appuntamento con zoom certificates prima giornata d'estate e sarà complice col clima il calendario ma abbiamo degli ospiti che sono particolarmente frizzanti e io quindi l'introduco subito partendo naturalmente da riccardo falcolini e do il benvenuto anche al nostro pietro di lorenzo in collegamento bene abbiamo detto primo giorno d'estate ma non solo sono anche questi giorni degli esami di maturità oggi la prova di italiano tante le tracce che sono emerse abbiamo dato una sbirciata beh ci sono vari input da quasimodo a piero angela però insomma tutti focalizzati sulla visione del futuro e noi cercheremo un po di capire anche ecco quale futuro attendono i mercati l'ambito economico e finanziario e naturalmente in particolare il settore dei certificates quindi direi partiamo proprio da qui da una panoramica del presente e soprattutto del futuro con il nostro pietro i mercati salgono ma salgono senza strappi in particolare il nasdaq ha chiuso otto settimane consecutive positive cosa che non accadeva da oltre un decennio ma è un movimento come dire tranquillo non c'è quella volatilità e quell'esplosione anche dei volumi che uno si aspetta dopo otto settimane consecutive positive adesso siamo arrivati un po' a riederazione siamo sotto delle resistenze importanti io credo che sia necessario quantomeno un consolidamento prima di attaccarli in maniera proficua quindi mi aspetto come dire un mercato che entri in modalità estiva meno meno scambi meno volatilità un consolidamente poi nella magari nella parte centrale di luglio un tentativo di attacco alle resistenze chiave è certo ecco lo vediamo anche attraverso i nostri grafici tra l'altro i movimenti di giornata e lo abbiamo annunciato insomma sono borse possiamo definirle così piatti almeno per il vecchio continente il Fuzzimib che guadagna lo 0,48% il DAX di Francoforte più 0,12% e poi Caccaran e Fuzzicento Borsa di Londra che si aggirano attorno alla parità abbiamo detto ecco questo è il contesto insomma macro che si prefigura come invece si riflette poi sul contesto dei certificates sei d'accordo Riccardo con l'analisi di Pietro? cioè c'è un momento un po' di stasi questo un po' di attesa vale anche per la massa dei volumi? sì assolutamente sì Valentino la massa dei volumi sicuramente è abbastanza diciamo ferma su quella che è la media giornaliera di 50 milioni di euro di turnover manca proprio come diceva Pietro volatilità mancano fondamentalmente quegli spunti insomma per un po' per negoziare in modo un po' più vivace inizialmente i certificate c'è da dire questo allora i certificate al momento sta vivendo comunque una serie di diciamo tra virgolette attacchi da alcuni competitor che sono i BTP bond ma anche i conti deposito che tendenzialmente sono ritornati a rendere più di quello che rendevano negli ultimi anni diciamo che nella struttura fondamentalmente sono strumenti completamente diversi nella concezione o comunque nella concezione finanziaria del cliente retail sono prodotti assimilabili diciamo quindi tendenzialmente una parte di riduzione dei volumi diciamo che ormai sono lontanissimi dei massimi dei BTP che abbiamo visto durante gli anni scorsi è dettata da questa mancanza di volatilità dall'altra parte dal ritorno dei rendimenti appunto di bond e BTP in generale quello che però vediamo Valentina è come comunque la clientela che inizia un po' a far rigirare i portafogli perché alcuni prodotti sono scaduti anticipatamente inizia comunque a muoversi su prodotti sempre con barriere profonde quindi con barriere che siano in grado di assorbire un calo di mercato tendenzialmente con sottostanti indici quindi siano un po' meno volatili dal punto di vista del paniere che però ugualmente riescono a rendere comunque hanno dei rendimenti interessanti perché? Perché gli strutturatori in questo caso noi come emittente grazie al rialzo dei tassi siamo riusciti a dare un po' una spinta e un boost in più dal punto di vista del rendimento quindi diciamo è uno scenario comunque variegato e dico la verità appunto al momento questo attacco alle resistenze anche su tutti i mercati sta un attimo mettendo in pausa tutti i ragionamenti però sono sicuro che comunque non appena tornerà un po' di vivacità magari dopo l'estate si potranno riprendere per bene gli scambi ecco siamo tutti pronti a mettere il tasto pausa lo abbiamo capito insomma sia i mercati sia se ci riferiamo alle nostre situazioni certo l'estate in questo contesto pesa anche per il rallentamento proprio delle operazioni però comunque ci sono degli strumenti ecco dei prodotti su cui possiamo puntare anche in questo momento ne abbiamo tanti da presentare in questa puntata io direi ecco di partire con la raffica quindi con i certificati della settimana la nostra inter sigla eccoci Pietro allora io ti direi iniziamo proprio dal tuo tris che ci proponi e in particolar modo dal top bonus su Telecom Italia sì volentieri mi aggancio se posso un secondo a quello che diceva Riccardo rispetto a quello che è l'operatività effettivamente prima dell'estate uno magari non si vuole prendere particolari rischi ma è anche vero che se si è liberata liquidità da certificati che sono scaduti in maniera anticipato richiamati è un peccato tenere la liquidità non al lavoro nel senso che come stai con l'inflazione sostanzialmente se tieni i soldi fermi in fruttiferi stai perdendo potere acquisto quindi secondo me è necessario agire come agire quando sei sotto resistenza fai fatica a comprare i certificati secondo me sono un ottimo strumento in questa fase perché perché non vai linearmente a prendere la performance sottostante ma in qualche modo stravolgono il rapporto rischio rendimento e quindi puoi acquistare dei titoli magari anche se sono su livelli chiave importanti avendo un bel cuscinetto del capitale condizionatamente prodotto quindi questa nonostante tutti i certificati proprio sotto resistenza potrebbe essere una buona soluzione di investimento rispetto invece alle buone soluzioni di investimento ti propongo questo di E000HB68UdileZ0 è un top bonus su Telecom Italia ti spiego diciamo le metriche con cui ho selezionato i certificati lo possiamo mostrare anche o condividi tu giusto? vuoi che condivida io? no 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 lo mostriamo noi lo mostriamo noi perfetto perfetto in due parole il tema è questo le metriche con cui ho selezionato i prodotti sono sottostanti che ritengo possano far bene evidentemente è chiaramente un rendimento atteso che sia intorno al 10% almeno perché se no uno chiaramente si rivolge adesso che l'obbligazione a rioffrire le opportunità va al trovo nello specifico perché ho scelto Telecom Italia? anzitutto perché è il titolo su cui ho più richieste in generale diciamo la nostra community è molto attiva su questo tema evidentemente perché è rimasta incagliata e probabilmente anche delusa da quello che sta succedendo in secondo luogo perché si avvicina il momento un po' della verità domani ci dovrebbe essere un CDA importante rispetto a quelle che sono gli sviluppi delle offerte sulle reti in particolare dei fondi americani detto ciò andare dritti su Telecom Italia con un prodotto lineare quindi tipicamente con un'azione comporta dei rischi no? nel senso che tipicamente potremmo affrontare ancora una volta una situazione in stand by e quindi prezzi che si mettono in laterale comunque non sviluppano il movimento ascendente sviluppato il vantaggio di questo prodotto per farla breve è che ha una scadenza piuttosto ravvicinata quindi 15 dicembre 2023 e soprattutto ha un cuscinetto all'istanza barriera del 41% ergo per farla semplice se da qui alla scadenza che come dicevo è tutto sommato inferiore ai 6 mesi e quindi piuttosto vicina Telecom Italia non perde più del 41% a scadenza il prodotto paga un bonus interessante il prodotto sembra andato perché quota 111,38 in denaro ma in realtà avendo un bonus a 117 offre ancora un rendimento residuo di circa 4,5% nei 6 mesi quindi quasi il 10% annualizzato quindi un prodotto tranquillo per chi ritiene che Telecom Italia non possa perdere un ulteriore 40% fra l'altro la scadenza essendo la barriera discreta e quindi un prodotto partiamo con una situazione tranquilla ma secondo me è assolutamente interessante di protezione sopra posso fare una domanda Pietro? certamente, prego, interviene come strategia su questo prodotto? noi sappiamo che comunque i certificati possono essere utilizzati o come strategia diretta quindi compro il certificato oppure insomma come strategia alternativa all'equity appunto lui come strategia Pietro come lo utilizzeresti? come equity substitution oppure se hai una posizione su Telecom che è in sofferenza vendi Telecom e prendi il certificato? cioè che cosa ti sei immaginato su questo? no, io questo lo prenderei se già ce l'ho in portafoglio non lo farei non è questo quello giusto per fare l'equity substitution se sono in sofferenza non è questo poi magari se abbiamo tempo ti mostro magari qualche altro prodotto più adeguato per questo obiettivo questo secondo me è un prodotto per chi tutto sommato vuole fare un'estate tranquilla cioè vuole avere un rendimento più o meno ragionevole a fronte di un rischio contenuto ripeto, considerando quanto è successo su Telecom un ulteriore 40% di perdita fra l'altro con barriera discreta mi sembra uno scenario piuttosto improbabile detto ciò tutto è possibile quindi lo leggo più per un investitore che non ha Telecom ritiene che sia improbabile, fortemente improbabile che a dicembre 23 valga un prezzo insomma intorno ai 15 centesimi e 6 che sarebbero assolutamente i minimi storici di Telecom quindi un livello diciamo abbastanza drammatico chiaro, chiarissimo allora vediamo ecco il secondo prodotto ci racconti volentieri ecco come sempre appunto anche le strategie perché ecco l'hai scelto si tratta stavolta di un bonus cap quanto su Paypal sì, l'ISI immagino lo state inquadrando quindi c'è bisogno di ripeterlo guarda questa è una storia anche qui dopo un po' di euforia secondo me bisogna andare a prendere le storie che sono rimaste un po' indietro su un mercato euforico andare su titoli che hanno corso tanto non ha molto senso considerando anche la scadenza del prodotto che è un prodotto ancora una volta con scadenza dicembre, 14 dicembre 2023 Paypal delude delude gli operatori in qualche modo anche come Telecom quindi ho scelto dei titoli che non stanno attraversando una fase brillante detto ciò secondo me il titolo potrebbe essere riscoperto quantomeno nello specifico non dovrebbe essere interessato ad un ulteriore flusso di vendite e da qui l'idea di mettere di selezionare un prodotto con una barriera anche qui abbastanza distante parliamo del 35% dai livelli attuali in questo caso è un prodotto più aggressivo in quanto essendo un bonus cap la barriera è continua a differenza del precedente che era discreta che però piano piano rispetto ai minimi che aveva toccato al 93% adesso il certificato adesso sono stati prendendo quota complice anche un consolidamento di Paypal è una storia che non è in feeling adesso con il mercato ma ritengo che è un titolo che difficilmente possa perdere oltre il 30% a fine anni il rendimento atteso è più alto del precedente essendo la barriera evidentemente continua quindi un 6% che è annualizzato è quasi un 13% e quindi alziamo un po' la soglia del rendimento atteso e quindi di conseguenza anche del rischio benissimo io direi Riccardo chiudiamo le proposte di Pietro così poi magari facciamo anche un commento complessivo l'ultimo prodotto che ci presenta è un cash collect worst of con effetto memoria autocallable stavolta su un paniere composto da assicurazioni generali Eni intesa San Paolo quindi insomma tre nomi tre titoli che si ritrovano molto spesso nei portafogli degli italiani sì diciamo tre garanzie sostanzialmente stai prendendo il top che c'è il settore energetico assicurativo e bancario italiano quindi stai un po' scommettendo sulla tenuta dell'indice italiano questo prodotto con peculiarità assolutamente diverse rispetto ai precedenti come al solito cerco di offrire delle soluzioni di investimento diverse proprio per cercare di raccontentare i diversi palati in questo caso parliamo di un prodotto che ha avuto molto successo in generale ha struttosto molto successo perché? perché offre dei premi mensili cioè a modi come dire locazione di un immobile che ti da o meglio ti dovrebbe dare un ritorno ogni mese questo prodotto ogni mese ti stacca questa cettolina cettolina tra l'altro insomma interessante anche perché riesce a ottimizzare il discorso fiscale dello 0,85% quindi ogni mese sostanzialmente è una cettola condizionata ma insomma una barriera talmente profonda che ad oggi è quasi come se fosse incondizionata quindi qual è la logica di questo prodotto? è un prodotto adeguato a chi ha necessità di una rendita periodica che magari vuole integrare col reddito che ne so tu hai una spesa extra o il mutuo che cresce in virtù dei tassi vuoi farti aiutare dici sai che c'è prendo questo prodotto che mi va a integrare magari la rate del mutuo che è cresciuta e così e mi fa fronte anche a delle spese potenti quindi che magari non voglio reinvestire sul mercato in corso d'opera la seconda peculiarità che piace molto agli investitori è l'effetto memoria l'effetto memoria ne abbiamo già parlato diverse volte che cosa vuol dire? che questi premi qualora non pagati non vengono persi ma vengono in qualche modo come dire congelati, surgelati e messi in un cassetto in attesa di essere tirati fuori qualora quali condizioni lo permettano esatto e terza condizione terza diciamo elemento che piace anche molto ai trader soprattutto quelli più attivi la possibilità di un richiamo anticipato a partire da dicembre 2023 quindi a sessa osservazione il certificato può essere anticipato può essere rimborsato anticipatamente qualora ricordano delle particolari condizioni considerando anche la barriera molto profonda al 50 mi sembra un prodotto intelligente conservativo ma anche ottimizzante in termini fiscali perché ricordo che il premio alla cedola contribuisce a formazioni di reddito diverse e quindi va a scalare le minusvalenze eventualmente in portafoglio è così quindi un prodotto diciamo interessante per chi ha come obiettivo finanziario la rendita periodica chiarissimo io direi che il nostro Pietro Di Lorenzo ha superato l'esame brillantemente adesso vediamo la performance del nostro Riccardo Falcolini innanzitutto come commissione giudicante perché ti chiedo un parere sui prodotti di Pietro e poi analizziamo anche quello che ci proponi tu sì no Valentina allora sono sicuramente tre prodotti diversi distinti per caratteristiche sono tre prodotti molto validi ovviamente noi ricordiamo che comunque Pietro da trader ha una sua view ormai consolidata sul mercato, sui sottostanti quindi in grado fondamentalmente di andare a trovare anche delle chicche o delle particolarità e sa muoversi con strumenti più o meno rischiosi sulla base dei sottostanti cosa voglio dire? per esempio abbiamo visto che comunque come ha detto Pietro Telecom Italia è stata in una situazione particolare comunque Telecom Italia al centro comunque trattative con KKR e quant'altro quindi diciamo è giusto a mio avviso l'abbinamento prodotto top bonus con un sottostante di questo tipo perché? perché la barriera in questo caso viene validata esclusivamente a scadenza così come diceva Pietro in precedenza cosa significa? significa che Telecom Italia durante la vita del prodotto può andare anche al di sotto della barriera senza che il prodotto uno si estingua anticipatamente e due comunque perda quello che è il bonus l'importante appunto che a scadenza questo quindi il sottostante Telecom Italia si trovi al di sotto della barriera perché il prodotto quindi il punto del top bonus paghi l'ammontare massimo di 117 euro quindi sicuramente a mio avviso questa scelta è una scelta giusta dal punto di vista ovviamente dell'impostazione e della storia appunto in questo momento di debolezza comunque del sottostante gli altri due prodotti bonus cap su Paypal anche in questo caso un prodotto che a mio avviso risulta essere comunque un prodotto giusto e interessante perché per la view di Pietro abbiamo visto una barriera che comunque posta almeno 35% una maturity discretamente corta dicembre 2023 quindi comunque non ho particolari diciamo commenti da aggiungere lato invece terzo prodotto mi sento di dire che questo è di recentissima emissione è un prodotto che è stato emesso la scorsa settimana insieme a un paniere di altri 10 Isin quindi in totale 11 Isin come si può notare il rendimento comunque la cedola mensile è una cedola dello 0,85% quindi 85 centesimi di euro ma all'interno del pacchetto dell'emissione complessiva Valentina abbiamo panieri che arrivano a pagare anche l'uno e mezzo per cento questo perché come dicevamo in precedenza grazie al rialzo dei tassi diciamo l'emittente riesce a strutturare delle strutture più conservative ma anche allo stesso tempo riescono a pagare maggiormente quindi insomma anche in questo caso la scelta di Pietro è sicuramente una scelta giusta intuitiva è dettata dalle anche necessità di pianificazione finanziaria quindi insomma mi sento di dire che è stato promosso su tutti e tre promosso sì esatto a pieni voti a pieni voti su tutte le materie le diamo anche applauso della commissione esatto e l'applauso accademico però Riccardo ecco tu adesso appunto ti sei espresso nel ruolo di commissione giudicante ma cambiamo invece ruolo nell'ultima parte della trasmissione perché adesso ti vogliamo sentire che cosa ci proponi tu guarda siamo buoni e ti diciamo guarda argomento a piacere che cosa ci vuoi presentare ma allora guarda io in realtà voglio parlare di un prodotto diverso un prodotto che a differenza dei precedenti 3 è un prodotto sicuramente un po' più dinamico e reattivo a quelli che sono i movimenti del sottostante che è un turbo open end sì con sottostante il Fuzzinib ricordiamo sempre il codice Ice VE000HC2X081 come tutti i prodotti a leva è un prodotto che viene quotato sul Zedex dove unicredit in qualità di market maker è presente dalle 9.05 fino alle 17.30 perché volevo prendere in considerazione questo prodotto perché come si vede in una sezione caratteristiche questo è un prodotto che ha uno strike e in questo caso lo strike corrisponde al vero e proprio stop loss posto a 24.030 punti allora gli analisti in generale stanno parlando comunque analisti banche d'affari e quant'altro parlano comunque di un'impostazione positiva di un trend di fondo positivo comunque dei mercati abbiamo visto Nasdaq e S&P 500 hanno segnato i massimi il Fuzzimib sta andando a ritoccare nuovamente quella che è la resistenza dei 28.000 punti ma non sappiamo effettivamente se questa resistenza sarà rotta o comunque segnerà un nuovo ritracciamento allora dato che si veniva appaventato un ritracciamento possibile del 10% sui mercati per poi riprendere un trend positivo allora mi sono fatto più o meno un'idea allora se dovesse ritracciare il nostro Fuzzimib di un 10% quindi 2700 punti delle vie elettuali raggiungeremmo cosa? raggiungeremmo poco meno i 25.000 punti con una barriera posta a 24.030 punti cosa succederebbe? noi succederebbe che il prodotto rimarrebbe comunque in vita noi saremmo ancora in posizione e in caso di ripartenza comunque del mercato avremmo comunque tutto il potenziale upside quindi la ripartenza del mercato stesso con una leva di 7 volte ovviamente questo se la view di fondo e il trend di fondo dovesse rimanere positivo perché ricordiamo questi strumenti Valentina che sono strumenti a leva moltiplicano le performance sia in positivo che in negativo e in questo caso comunque il tocco della barriera corrisponde alla perdita totale del capitale investito quindi è giusto è un prodotto a scegliere da quell'investitore che ha una view di fondo positiva e rialzista sul sottostante che vuole approfittare del momento del momento attuale del momento di lateralità insomma diciamo del Fuzzi per poter poi andare a prendere beneficio su potenziali rialzi futuri del sottostante considerando anche il fatto che il nostro Fuzzi ha diciamo nell'ultimo negli ultimi mesi comunque ha dimostrato sempre una buona solidità rispetto anche agli altri indici per cui è più diciamo ecco capace di incassare anche colpi vari ecco che si sono succeduti in questi mesi ha dimostrato una certa resistenza quindi ecco sì Pietro vuoi intervenire? no scusate ho salutato una persona che è andato lì la donna no niente figurati figurati bene bene allora abbiamo chiuso ecco la panoramica di tutti i prodotti ecco di questi certificates della settimana con il nostro Riccardo Falconi che mi ha ricordato un po' i giocatori italiani nella premier degli anni 90 nella doppia funzione allenatore giocatore così lui è stato ecco professore contemporaneamente studente lo abbiamo messo alla prova un po' su tutto e diciamo Pietro dai lo promuoviamo o lo rimandiamo a settembre no no Riccardo è sempre promosso devo dire è sempre molto lucido nelle analisi e insomma è in gamba bene ovviamente vi dice questo perché mi vuole bene se no non lo chiameresti come osco ovvio va bene allora io so che tra l'altro voi siete riduci da un appuntamento importante di tiforum di Rimini vogliamo dire se negli ultimi settimane estive ci saranno altri appuntamenti che ci volete segnalare sì allora parto dai miei perché insomma Pietro comunque è sempre ripresissimo però noi abbiamo un webinar domani con Stefano Fanton e un webinar l'ultimo webinar per il mese di giugno con Nicola Para il 29 di giugno so che Pietro invece è sempre ripresissimo insomma con i suoi appuntamenti online quindi non so se ha qualcosa che vuole segnalare me lo specifico ma guarda se posso piuttosto gli appuntamenti online noi siamo già focalizzati è un po' lontano ma noi già siamo sul pezzo sull'investing Roma che è un evento a cui tengo molto che sarà il settobre stiamo preparando un'edizione veramente particolare piena di sorprese cambieranno tante cose quindi siamo già a lavoro su quello e quindi il 6 ottobre è una data importante per me eh bene allora noi hai fatto bene a ricordarcelo ce la cerchiamo sul nostro calendario ci aspettiamo cose spettacolari visto che insomma ce le hai preannunciate Pietro ok mi sento di poterlo promettere con serenità a sorprendere anche questa volta va bene io lo confermo vedremo se riuscirà a sorprenderci anche questa volta dai io lo confermo perché l'investing sono sempre due appuntamenti molto molto seguiti e frequentati certo diciamo che sono poi due appuntamenti che si svolgono in centro Italia che di per sé è comunque un po' dimenticata per quelli che sono gli appuntamenti di formazione di trading perché la maggior parte degli eventi si svolgono a Milano quindi Pietro e il suo staff perché ricordo che comunque lo staff di Pietro è uno staff stupendo fatto di persone molto molto competenti e professionali hanno comunque rendono possibile anche gli investitori che non riescono a raggiungerci a Milano di incontrare noi di incontrare le trader in un panel diciamo di tantissimi relatori esperti su vari strumenti finanziari asset class un po' di tutto quindi sicuramente diciamo chi viene porta a casa tantissimo valore aggiunto e poi ricordiamo Valentina è totalmente gratuito certo certo ma sicuramente è qualcosa da fare in una zona appunto abbiamo detto centro sud Italia in cui la cultura a livello economico finanziario non è così sviluppata invece come nelle regioni del nord ed è questo uno dei tanti gap dei tanti dislivelli che dobbiamo cercare di colmare e sicuramente appuntamenti come questo non fanno che bene io vi ringrazio ringrazio innanzitutto il nostro Riccardo Falcolini grazie per essere stato con noi grazie Valentina grazie a Pietro grazie a tutti un saluto naturalmente anche al nostro Pietro Di Lorenzo grazie mille un abbraccio e buona giornata grazie grazie a voi bene io vi ricordo che questa puntata di Zoom Certificates la potete recuperare on demand sul nostro sito www.lefonti.tv e anche sul nostro canale YouTube mi raccomando l'appuntamento è a settimana prossima l'ultima settimana del mese di giugno vedremo un po' tutte le novità per chiudere ecco questo mese proiettarci verso l'estate grazie a tutti